Miei Padoan bentornati, sono Emilia Valotti del canale V&Bounce e ringrazio Alberto, Simone, Federico, Giacomo ed Edoardo per il loro grande sostegno. Per fare altrettanto seguitemi anche su Sprickare Instagram e il non pronunciabile sito Viola. Ricordo a tutti gli abbonati il gruppo Telegram, per maggiori informazioni scrivete alla pagina Facebook. Inoltre ringrazio mio fratello Stefano per la stesura del video e per la Star Wars Complete Vakers, che ci accompagnerà qui e nei futuri Inside. L'esplorazione galattica confide in speciali tecnologie create millenni prima della Repubblica Galattica. Viaggi iperspaziali, generatori di gravità e comunicazione in tempo reale sono ormai all'ordine del giorno e anche il dispositivo più comune vanta la potenza di calcolo necessaria al viaggio interplanetario. L'iperguida permette alle navi di viaggiare più veloci della luce saltando nell'iperspazio e carburanti utilizzati come il coassio garantiscono la potenza necessaria per saltare, mantenendo costanti energia e massa del veicolo. Ogni salto però deve essere calcolato con cura, infatti gli oggetti più grandi, le stelle, i pianeti o gli incrociatori proiettano delle ombre voluminose sul piano iperspaziale che possono provocare collisioni mortali. Un disparato numero di tecnologie lavora inoltre per riprodurre, modificare o far fronte alla gravità. Il sollevamento repulsione consente alla nave di librarsi da terra o sorvolare nell'atmosfera di un pianeta. Durante le manovre a velocità più elevate il compensatore di accelerazione salva guardie all'equipaggio mentre i raggi traenti sfruttano una simile tecnologia per manipolare la gravità. In questo modo si può attrarre o respingere oggetti e navi più piccole in prossimità dello scafo. Durante l'era imperiale alcuni incrociatori sono equipaggiati con proiettori gravitazionali che bloccano i salti iperspaziali o possono trascinare le navi all'esterno da l'iperspazio. Tuttavia l'enorme mole dei generatori sacrifica scudi e armamenti. Per ultimo ogni mezzo progettato per attraversare lo spazio dispone inoltre di gravità artificiale. I sensori sono altrettanto importanti per i viaggi spaziali poiché allertano l'equipaggio di minacce e pericoli esterni. Abbiamo tre modalità di scansione, quella passiva che monitora la stessa aria, quella attiva con un'aria maggiore e invece quella di ricerca, concentrata su una sola zona specifica. Attraverso degli impulsi emessi dalla nave, gli scanner sono in grado di computerizzare informazioni precise, utili ai piloti e all'equipaggio. Molti veicoli militari hanno enormi sensori in grado di analizzare un ampio raggio, garantendo un maggior controllo dello spazio circostante. Io come sempre sono Emilio Valotti e vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Lasciate un mi piace, invitate nuovi amici ad unirsi a noi e vi aspetto su Instagram, Facebook e sul sito Viola, in cui mi trovate come Van Bounce. Che la forza sia con tutti voi! Che la forza sia con tutti!